Nessun operatore è argomento di rispossibile, si plega di richiamare più tardi. Questo è il messaggio della segreteria telefonica che abbiamo ascoltato oggi più volte, provando a contattare il numero verde di prenotazione dell'azienda sanitaria provinciale Catania, 800 954 414. In pratica è impossibile prenotare presso l'ASP visite specialistiche, esami, radiografie. La situazione è stata segnalata alla nostra redazione da una telespettatrice che non riesce a prenotare da settimane una capillaroscopia. A ogni chiamata il numero è occupato o se si riesce a prendere la linea, la voce guida l'utente sino all'ultimo messaggio. Nessun operatore disponibile si prega di richiamare più tardi. Questa mattina abbiamo verificato la situazione descritta con una decina di telefonate che hanno confermato quanto segnalato dalla nostra telespettatrice. Un'alternativa sarebbe quella di utilizzare il servizio di prenotazione online che tuttavia non consente di prenotare tutti gli esami e oltretutto è necessaria una conoscenza minima digitale che soprattutto alcune fasce di popolazione non possiede. Maggiormente penalizzate da questa situazione sono persone fragili, anziani e disabili per i quali prenotare un esame diventa una montagna da scalare. E anche nel caso in cui parenti o persone care giungano in aiuto non sempre possono risolvere come nel caso che abbiamo approfondito. Le alternative sono quelle di rivolgersi a strutture ospedaliere o a strutture private. Insomma, una sconfitta per la sanità pubblica.